Il rispetto delle regole, distanza però sarebbe ora un po' anche di aprire. Io penso che giustamente si potrebbe prolungare fino alle 23, sempre con le dovute distanze di sicurezza. Non è quell'ora in più che cambia, insomma, per cui chiaramente con le dovute distanze e le regole. Andiamo anche verso la bella stagione, di conseguenza se uno si vuole trovare anche fuori, che non sia in un locale, si trova comunque. Non dico di portarla alle 3 del mattino, però se l'avessi portata alle 11, 11 e mezza, e credo che sia giusto anche per rispetto verso questa categoria che ha pagato molto. Più avanti si va, più è facile che ci siano gli assembramenti fuori dai locali. Quindi alle 10 è più facile controllare che non ci siano gli assembramenti. Per maggio e forse anche metà giugno sarei d'accordo, per dopo chiudere alle 22 se i contagi vanno bene, se non ci fossero morti come ci sono adesso, sarei anche più contenta se aprissero oltre le 22. Se io fossi stato un legislatore avrei dato un'altra data, io avrei detto il 30 di giugno liberi tutti. Io abitando in centro, mi dispiace dirlo, ma sono d'accordo. Per la parte economica bisognerebbe aprire almeno fino alle 23, per la parte sanitaria è punto di domanda. Penso che le decisioni che ha preso il governo siano valide, che va bene la chiusura ancora alle 22, la pandemia non è ancora finita.